Quando ho deciso di frequentare il corso al British Council le mie aspettative, devo ammettere, erano piuttosto elevate. At the British Council, we're all passionate about what we do, we enjoy teaching, we also see it as a real profession. So we all studied hard to get internationally recognized teaching qualifications. Gli insegnanti hanno una specifica metodologia di insegnamento basata su una moltitudine di esercizi che rendono la lezione non solo interattiva, molto impegnativa, sempre innovativa e mai banale. Grazie a tutti.